Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale! Oggi vi presenterò il Tebasaki na Macarani Sono ali di pollo marinati in una salsa dolce con semi di sesamo Un piatto di Nagoya Allora iniziamo! Per prima cosa mettiamo le ali di pollo nella busta Non bisogna mettere per forza in una busta Ma così si evita di sforcarsi Sariamo il pepiamo Cospariggiamo bene Aggiungiamo la fecora di patate Chiudiamo la busta e uniamo tutto Grattugiamolo zenzero Allora prepariamo la salsa Metiamo due cucchiare di salsa e soia Doe cucchiare di miri Un cucchiare di zucchero Anche lo zenzero toritato Mescoliamo bene Ecco, la salsa è pronta Mettiamo l'olio da frittura nella padella Friggiamo le ali di pollo a fuoco medio Per circa 7-9 minuti Sino a che non diventa nodolato Coceamo entrambi i lati Siamo attenti alla cottura L'olio della salsa Allora aggiungiamo la salsa Poi diamo a fuoco basso in modo da unire i sapori. Infine aggiungiamo i semi di sesamo. Impiattiamo. Il colore è bellissimo se abbinato all'insalata. Ecco pronto! Buon appetito! Facilissimo cucinare e buonissimo! Sono ottime accompagnate con la birra. Se le volete più piccanti, vi consiglio di mettere la salsa coreana. Grazie per avermi seguita! Ci vediamo nel prossimo video! Ciao!